5, 4, 3, 2, 1, vai! Sinistra vai, 150, destra 6, 100 e destra 6, 20 per tornante destro. Settanta, e tornante sinistro. 80, destra 6, 50 e ancora destra 6, 30, albiri tornante destro. Qua, tornante destro, 20, sinistra 6, 30 e albiri tornante sinistro. 30, destra 5, per sinistra 4 più, per destra 5 meno che diventa tornante destro. Destra 5 meno che diventa tornante destro. Sinistra 4 più, per destra 5 più, fa niente. Per tornante sinistro. Calma, eh? C'è problema. Destra 5 lunga lunga, 70 e alla cappelletta. Sinistra 6, 50. Destra 5 lunga lunga, e albiri, destra 2 lunga lunga, gira. Occhio, destra 2 lunga lunga, gira. Sinistra 3, per destra 4, per sinistra 4 più, 50 e tornante sinistro. Destra 5, 20 e destra 5 più, 50. Sinistra 4 sconnessa, 150. Al cartello freni, sinistra 3 meno meno su ponte. Il cartello è quello là, eh? 3 meno meno su ponte. 50, alla chiesa destra 2 meno gira, 2 meno gira. Per sinistra 3 no, per destra 3 no. 80, destra 3 meno, in sinistra 2, 3 meno, in sinistra 2. E destra 2, per destra 2. E sinistra 3, che chiude 2 al cartello, 50. Sinistra 3, chiude 2. 50, destra 2, gira. 10, sinistra 2 più, 30. Stretta, stretta, destra 3 lunga, sinistra 2 lunga. Sinistra 2 lunga, tranquillo. Sinistra 2 lunga, devi andare ai 50. Allora alla scala. Frena, frena. Ok, vai, vai di più, accelera un po', accelera pure. Continua così, continua così, continua così, è perfetto. Vai, vai, continua così, vai, puoi dare ancora più di più, eh. Vai, sinistra 3 meno, 50. E al cartello sinistra 2 meno, in destra 4 più. 150, occhio, sinistra 5 meno, 100. Occhio, eh. Sinistra 5 meno, 100. Intornante sinistro. Eccolo lì. 50. E tornante destro. Sinistra 5 meno, lunga. Al cartello vicino, 50. Albiri sfiora, sinistra 4 meno, tieni. Anche qua. E frena slow. L'hai vista? Frena, vai. Così è perfetto. Accelera pure un po', accelera pure un pochino. Ok, tieni così, tieni così. Così è perfetto, vai, continua. Tieni là così, eh. È perfetto. Aspetta, 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 aspetta. Vai, sinistra 4, lunga, lunga. Per destra 5. 50. Albiri frena, sinistra 3, sporca. Frena, sinistra 3, sporca. 150. E a Riles fiora, sinistra 5, lunga. Sinistra 5, lunga. 50, sinistri. Albiri su ponte, destra 2, due sequenze. Pericolosa. 1, 2, 50. Sinistra 6. E 80, sconnessi. Molta attenzione. Sinistra 4 meno meno, in destra 4. Occhio, sinistra 4 meno meno, in destra 4. In sinistra 3 meno, in destra, in sinistra 3. E subito, destra 2, gira. Due gira. Occhio, eh. Sfiora, sinistra 4, 30. E sinistra 3, 20. Questo, eh. Sinistra 3. Destra 4, lunga, no. 50. Albiri, molta attenzione. Destra 5 meno meno. E subito, sinistra 2, lunga, occhio. Occhio, 30. Sfiora, sinistra 4. Occhio, frena. Vai, 50 all'ora. Accelero pure un po'. Ok, così. È perfetto. Vai, continua così, eh. Rallenta, 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 rallenta. Ok, rallenta. E vai così. Così, 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 così. Rallenta. Perfetto, eh. Guarda che ci siamo. Attenzione. Vai, dosso, 30. Sinistra 4 più, 50. Attenzione. Destra 3 meno meno. 3 meno meno. 50. Arrai l'occhio. Sinistra 4. 40. E sinistra 4 meno. Occhio. E sinistra 6. E alla pianta. Frena. Destra 4. Frena. Destra 4. E attenzione. Sfiora, sinistra 3. E occhio. Destra 4. 50. Alla casa. Frena. Destra 3 meno. 3 meno. Per. Sinistra 4 meno. No. Per. Destra 4 meno meno. E subito, tornante sinistro. Destra 5, 20. E destra 5 più. E alla chiesa. Sinistra 4 meno. E subito, destra 4 sporca. Occhio. Per destra 2 gira. Destra 2 gira. Sinistra 4. Lunga che chiude alla fine. Chiude alla fine. Qua. Al cartello 30. Frena. Destra 2. E destra 2. 30. Sinistra 5. 30. E attenzione. Sinistra 3. 3 tempi. 3 tempi. 1. 2. E 3. E destra 3 meno. Per destra 3 meno meno. 3 meno meno questo. E al birri sinistra 2. Occhio che sporco qui, eh. 30. Per frena. Tornante destro. 100. Destra 4. Chiude 3. E subito, tornante sinistro. Chiude 3. Occhio qua. Tutto sporco. Destra 6. E sinistra 6. 50. Sinistra 4. Fine.